Ci occupiamo in questa occasione di un problema che non esito a definire piuttosto delicato, che però richiede un approfondimento anche in virtù delle tante segnalazioni che ormai riceviamo sul punto. Credo che parlando della città di Milano sia capitato praticamente a quasi tutti noi di trovare la brutta sorpresa di una multa elevataci dai cosiddetti ausiliari della sosta, che sono, come molti sanno, dipendenti dell'ATM, l'Azienda dei Trasporti Municipali Milanesi. Occorre sottolineare che in diversi casi le multe elevate da questi soggetti risultano essere palesemente illegittime. Per quale motivo? Ci soffermiamo su questo argomento perché riteniamo che sia davvero di comune interesse, perché sia giusto che il cittadino conosca questa realtà giuridica e di fatto. Perché parliamo di illegittimità? Parliamo di illegittimità perché quando noi troviamo il foglietto cosiddetto della multa e abbiamo parcheggiato, ad esempio, in una zona riservata ai residenti, pur non avendone diritto, o abbiamo sbagliato lasciando la macchina un po' in curva, oppure con un paio di ruote sulle strisce pedonali, abbiamo sicuramente commesso una violazione del codice della strada, ma questa violazione può essere sanzionata solo dagli agenti accertatori che sono altrettanto chiaramente indicati nel codice della strada. Fra questi soggetti non c'è assolutamente l'ausiliario della sosta, bensì negli stessi foglietti della multa che loro ci lasciano sul parabrezza, se parcheggiamo nelle zone riservate ai residenti o abbiamo la sventura di dimenticarci la macchina un po' in curva, sono indicati anche riferimenti di legge in virtù dei quali loro possono agire e nel particolare sono una legge del 97, la numero 127, e una legge del 1999, la 488. Queste due disposizioni normative, combinato e disposto di queste due normative, individuano chiaramente le competenze degli ausiliari della sosta dipendenti dell'azienda di trasporto municipale di Milano e sono quelle di vigilare e sanzionare le eventuali condotte illecite esclusivamente sulle zone di parcheggio date in concessione di controllo alla stessa azienda municipalizzata, ossia le zone di parcheggio delimitate con le strisce blu o le zone nelle quali debbono transitare in via esclusiva i mezzi pubblici, quindi le cosiddette corsie riservate. Tutte le altre zone, tutti gli altri accertamenti, tutte le altre contravvenzioni che questi signori pongono in essere in maniera anche assolutamente indiscriminata, è bene ricordare, sottolineare con forza che sono illegittime. Cosa fare dunque e come accorgersene? È molto facile accorgersene perché quando noi torniamo alla macchina e troviamo la multa, mentre ci arrabbiamo possiamo controllare se in alto sulla sinistra abbiamo l'intestazione ATM, ispettori della sosta e se dietro è stato barrato il numero 27 che fa riferimento al loro comando di zona. Il comando di Milano è il numero 27. In questo caso, se noi avremmo parcheggiato la macchina nelle strisce blu senza pagare il dovuto o avremmo parcheggiato la macchina in zone adibita al passaggio esclusivo di mezzi pubblici, solo in quel caso noi saremmo tenuti ad essere sanzionati. Negli altri casi, la contravvenzione non poteva essere elevata da questi soggetti che non ne hanno la legittimità. Cosa fare? Allora, si hanno 30 giorni per impugnare la contravvenzione davanti al giudice di pace o 60 giorni per farlo davanti al prefetto. Il nostro consiglio è di farlo senz'altro davanti al giudice di pace perché ormai sono quasi unanimi le sentenze che annullano queste contravvenzioni perché illegittime e condannano altresì il comune all'esarcimento delle spese legali. Ricordiamoci di una cosa. Stiamo parlando e viviamo in uno stato di diritto. Lo stato di diritto prevede che ci siano delle regole e dei soggetti legittimati a farle rispettare. Quindi, se io commetto un errore in buona e in cattiva fede dovrò essere sanzionato da chi lo può fare a norma di legge. Questi personaggi non lo possono fare a norma di legge e quindi il cittadino deve sapere come difendersi.